benvenuti amici di anduma show eccoci qua anche sulla nostra tv cn live tv e naturalmente sul canale youtube della cuneo volley l'appuntamento che parla come sempre di tutto quello che è il mondo della cuneo volley anche il famoso campionato di serie a2 che noi seguiamo sempre con molta passione e lo facciamo anche attraverso questa nostra questo nostro appuntamento ormai è diventato consueto con anduma show oggi ospitiamo luca filippi che salutiamo luca benvenuto il palleggiatore della cuneo volley della cuneo volley anche molto attivo in queste ultime partite visto anche lo dobbiamo dire è l'infortunio di matteo ecco purtroppo salutiamo anche matteo che è in fase di guarigione naturalmente matteo pedrone allora luca tu comunque ecco per iniziare anche a parlare un po di te tu parti da questa città perché tu sei un cunese naturalmente parti dal vivaio come tanti ragazzi dal vivaio della società di cuneo per poi insomma prodare anche a fare qualche esperienza fuori e poi tornare a casa a casa si si io sono nato a cuneo sono originario cuneo o fa tutta la trafila mini volley in poi poi purtroppo quando cuneo ho dovuto chiudere io ho dovuto fare altre scelte ho avuto la fortuna di fare qualche esperienza fuori casa tra cui a roma e poi sono stato sia nel torino dopo i quali sono tornato a casa dove si sta sempre bene assolutamente insomma ha fatto piacere credo a tutti averti di nuovo ovviamente in questa in questa formazione guidata nostro amico roberto sergnotti allora luca affrontando anche il campionato quello che sta succedendo possiamo dire bergamo un po la nostra bestia nera purtroppo una sconfitta quella l'ultima di campionato e adesso ci proiettiamo invece domenica alla partita importante lì non bisogna assolutamente sbagliare contro reggio emilia ci ricorda un po purtroppo la finale di coppitalia però devo dire che adesso dobbiamo archiviare quello che è successo e pensare veramente proiettare tutto a questo campionato all'obiettivo playoff sì sicuramente vabbè dobbiamo archiviare la partita di bergamo che purtroppo ci ha visti sconfitti un po malamente puoi dire amarico perché siamo erano partiti bene primo set erano in testa potavamo vincerlo e abbiamo sbagliato noi appunto non portarci la casa e da lì poi la partita è stata un po tutta in salita quindi non siamo riusciti a concludere in modo in modo positivo e ora dobbiamo affrontare il reggio quindi dobbiamo sicuramente archivare tutto partire da zero e giocare un'altra partita e diciamo cercare di non di dimenticare quella che è stata la fine di coppa italia di un mesetto fa che purtroppo è stata una brutta delusione per tutto alcune volle sì diciamo delusione però ecco io ci direi a sottolineare il grande evento che c'è stato con migliaia di persone che sono tornate al palazzetto credo che sia ritornato un po anche l'entusiasmo nei vostri confronti e quello credo che sia la nota positiva di quella finale proprio per come io ho vissuto il palazzetto negli anni quando ero piccolo ho sempre visto alcune volte cioè la prebanca la vecchia prebanca mi sembra un po di tornare a quegli anni lì con il palazzetto pieno il tifo è stato molto molto bello proprio per quello sarebbe stato bello diciamo portare a casa la coppa ma non è successo è stata comunque una bellissima esperienza penso per tutta la città di cuneo e per la società sicuramente e ora dobbiamo andare avanti nel nostro cammino quindi c'è reggio e dobbiamo fare sicuramente bene certo certo reggio è sicuramente l'obiettivo prossimo quello di domenica ma devo dire ecco per chiudere che l'obiettivo playoff è un obiettivo importante questa squadra credo che ha tutte le carte in regola per poter raggiungere questo obiettivo e per magari aspirare anche a quel sogno che tutti i nostri tifosi vorrebbero quello della promozione beh sicuramente il sogno di tutte le squadre che si scrivono a questo campionato è quello di arrivare a fare promozione la squadra delle carte in regola è stata costruita con questo obiettivo quindi inutile nascondersi dietro dietro nulla e lasciando questi alti e bassi di partite vinte e perse noi dobbiamo continuare a andare avanti arrivare playoff e arrivare nel miglior modo possibile i playoff nella miglior condizione in modo da poter fare bene bene io ti ringrazio continuerò anche a gridare come al solito il tuo nome al palazzetto e credo che sia importante naturalmente darvi anche quella carica in più grazie a luca filippi e come al solito come facciamo con tutti luca devi concludere con il nostro slogan che è anduma 1 2 3 anduma grazie noi ci sentiamo tra qualche istante buonasera amici di anduma show eccoci qua di nuovo insieme per conoscere quelle che sono le realtà vicino alla pallavolo cunese saluto vittorio borgoni grazie vittorio di esserci venuti grazie a voi buonasera a tutti tu rappresenti il cralle merlo ovviamente dopo lavoro dove ci sono tanti associati e rappresenti anche lo dobbiamo dire un'azienda che è la storia della provincia di gunio anzi permettimi di salutare il signor america lei merlo e la sua famiglia che da tanti anni insomma ecco gestiscono questa grande azienda che sicuramente un fiore all'occhiello di tutta la provincia e non solo certo io personalmente ne vado fiero di lavorare in questa stupenda realtà del cunese che già tanti ci invidiano sia sia in italia ma anche nel mondo ricordo che appunto la nostra è una multinazionale opera in quasi tutti gli spazi commerciali del mondo e ho accolto con piacere abbiamo accolto con piacere il sodalizio che ci è stato proposto con il cuneo valley proprio perché una realtà importante come la nostra sul territorio voleva anche abbracciare una realtà come quella sportiva molto radicata sul territorio come quella del cuneo valley certo parliamo anche del cralle merlo dopo lavoro so che non è rivolto solo ai dipendenti e agli ex dipendenti dell'averlo ma si può accendere anche all'esterno esatto esatto proprio la volontà della famiglia era quella di radicare sul territorio una realtà che poteva andare includere sia quelle che sono la realtà delle famiglie dei lavoratori che lavorano in azienda sia quelle che sono appunto gli esterni che vogliono partecipare a quelle che sono le attività proprie della nostra associazione che come tu hai ricordato giustamente possono essere quelle legate a il cralle inteso a tutto tondo che sono le convenzioni per i vari esercizi commerciali e altre cose che sono le gite e le varie cose che facciamo anche sul sociale certo è uno di quei compiti che noi abbiamo proprio intrinsechi nel nostro statuto questo periodo c'è anche lo sci ci sono quindi tutto un servizio di biglietteria nelle varie stazioni sia del cunese che dei nostri amici transalpini francesi che danno la possibilità di sciare a prezzi un po' più contenuti rispetto a quelle che sono le tariffe normali praticate dalle belle vittorio allora ci auguriamo di vedere ovviamente tanti amici che lavorano alla mezzo a venire al tantam è partito sia attraverso le mail istituzionali che arrivano a interessare i nostri lavoratori e sia quelli che sono i social il sito facebook twitter quindi c'è una capillarità di informazione e ne abbiamo già avuto riscontro che i nostri lavoratori sono interessati a partecipare a questi eventi sportivi bene ci fa piacere dunque questo sodalizio con questa grande azienda che è la merlo e con il grande merlo che tu rappresenti grazie a vittorio borgoni grazie a voi come sempre come facciamo con tutti i nostri ospiti lasciamo chiudere con il nostro slogan che è anduma allora uno due tre anduma anduma grazie vittorio grazie a voi e noi ci sentiremo tra qualche istante amici di anduma show continuiamo questo che è il classico anduma show che accompagna tutto il percorso della cuneo volley e oggi mi fa piacere riavere qua in studio perché ci è venuto a trovare varie volte davide bima responsabile marketing della cuneo volley benvenuto bentornato buongiorno a tutti buongiorno mario allora davide io direi che prima di dare invitare tutti i nostri amici a venire al palazzetto perché vogliamo ancora palazzetto pieno perché la squadra ne ha bisogno ancora domenica io direi che un accenno a quello che è stata la grande finale di coppa italia è un po anche quello che si è un po riacceso no l'entusiasmo che si è riacceso nei tifosi e anche in alcuni sponsor e credo che questo sia importante anche per il futuro di questa società assolutamente mario è mancata la ciliegina sulla torta della vittoria però devo dire che è stata veramente un'emozione vedere questo palazzetto che ribolliva di tifo è sembrato di tornare a tanti anni fa con un muro di brun brothers veramente da pelle d'oca ancora tanti complimenti a tutti i ragazzi veramente fantastici io li vorrei citare uno a uno avremo modo magari di ospitarli anche ad andù ma perché ci hanno messo veramente il cuore poi mi è piaciuto anche davide l'applauso che hanno fatto a raggio emilia e non è da tutti dobbiamo dirlo esatto guarda sono stati fantastici anche l'applauso che hanno fatto ai nostri ragazzi loro sono una componente fondamentale e quindi sicuramente sarà interessante continuare e noi speriamo che questo muro di brun brothers ci sia ancora di più ci ha fatto andare questa finale a un altro livello di visibilità da questo punto di vista tanti sponsor devo dire in questo ultimo mese ci hanno contattato per collaborare con noi e questo è il miglior biglietto da visita è un orgoglio veramente importante per noi perché ci fa capire che siamo nella direzione giusta no quando uno sponsor importanti del territorio si approcciano a noi vuol dire veramente che il percorso che stiamo facendo con unità di team con tutte le componenti con andù ma show con il tuo contributo al palazzetto con le componenti con tutti i contributi di tutte le componenti è veramente quello la strada giusta ecco siamo molto felici di questo e questo io vi ho fatto già più volte i complimenti perché ve lo meritate insomma avete creato un grande evento ma avete soprattutto avete riportato un grande evento nella città di cuneo di pallavolo e questo credo che sia merito un po del gioco di squadra come tu dicevi che tutti voi avete fatto dunque diamo l'appuntamento davide importante a domenica ritorna reggio emilia e bisogna concentrarsi a questo campionato che è importante bisogna raggiungere quell'obiettivo importante dei playoff sì assolutamente domenica il tema può essere la rivincita no a un mese di distanza dalla finale ci può essere la rivincita i nostri ragazzi sono carichi per cercare di appunto avere una una rivincita nei confronti di reggio emilia la partita sarà alle 19 vogliamo di nuovo il palazzetto pieno entusiasmo a mille come c'è stato un mese fa quindi vi aspettiamo numerosi al palazzetto dello sport domenica ora 19 e allora anduma anduma vi aspettiamo grazie a davide prima grazie a tutti quanti voi però